Buongiorno con Ivana Barbacci, segretaria generale di CISL Scuola. Oggi parliamo di una interessante iniziativa del suo sindacato che si svolgerà il 20 giugno prossimo presso l'auditorium Carlo Donaccaten di Roma. Cosa succederà il 20 di giugno? Succederà esattamente questo, che ci sarà un incontro seminariale del Consiglio Generale di CISL Scuola in cui si parlerà di autonomia, autonomia scolastica e autonomia differenziata. Si coglierà anche l'occasione di confrontarsi e anche di ascoltare la relazione di un importante, di un noto costituzionalista che è il professor Alfonso Celotto. Ecco, Barbacci, intanto perché avete deciso di organizzare questo evento, che attenzione è un evento interno vostro, oppure è un evento che sicuramente avrà una sua risonanza perché poi avremo la possibilità tutti quanti di leggere gli atti, i documenti che usciranno. Ecco perché avete preso questa decisione. Sì, grazie di questa opportunità che mi consente anche di dare, come dire, contezza di un metodo che noi abbiamo intrapreso in termini anche di consapevolezza anche dei processi che interessano la scuola, nello specifico, ma anche la collettività. E quindi la nostra dirigenza sindacale, perché il Consiglio Generale Nazionale è composto da tutti i dirigenti sindacali, segretari, siano territoriali che regionali, di tutte le strutture nazionali d'Italia, si riuniranno appunto il 20 di giugno per andare a scuola, per poter leggere con un occhio critico, ma soprattutto con la capacità intanto di cogliere i contenuti complessi di una proposta di riforma costituzionale come quella presentata dal disegno di legge Calderoli. è un tema molto complesso appunto, che tecnicamente deve essere approcciato dalla nostra dirigenza nella maniera più onesta intellettualmente, proprio per prendere una posizione politica che noi già abbiamo assunto nel tempo, ricordo che già nella precedente proposta al governo Conte 2019 noi ponemmo delle questioni di contenuto, di metodo e di merito sull'eventuale rischio di regionalizzazione del sistema scolastico. Qui siamo di fronte ad un altro modello, più complesso nei tempi, nello sviluppo, quindi vogliamo ascoltare un costituzionalista. Senti, però si parlerà non soltanto di autonomia differenziata, ma anche di autonomia scolastica, almeno così io leggo dal titolo. Qual è il rapporto che ci deve essere fra autonomia scolastica e l'autonomia differenziata? Proprio così, per noi è importante collegare i due temi, perché di fronte a una proposta che potrebbe vedere la ricomposizione in un quadro di intese tra il Consiglio dei Ministri, il Parlamento, il Governo e le Regioni, noi possiamo e dobbiamo in qualche modo porre nell'altro piatto della bilancia un qualcosa che già esiste nel sistema scolastico e che quindi riteniamo sia stato un valore in questi vent'anni di autonomia scolastica e che necessariamente va ricollocato in una dimensione di attualizzazione. Noi siamo probabilmente le istituzioni che più di tutti sono ancorate al territorio. Proprio l'autonomia scolastica portata al rango costituzionale consente in termini operativi, organizzativi, amministrativi di governare i processi dei sistemi scolastici sul territorio con delle assunzioni di responsabilità che provengono dagli organi collegiali. Senti, c'è però un problema a proposito di autonomia scolastica e di autonomia degli enti locali, delle regioni e così via. Tu sai meglio di me che alla fine degli anni 90 si era parlato, anzi era stato scritto nella legge sulle autonomie che insomma a breve sarebbe dovuta partire una operazione per rivedere anche l'assetto degli organi collegiali territoriali della scuola. Purtroppo dalla fine degli anni 90 ad oggi non abbiamo visto assolutamente nulla, quindi forse c'è anche qualche responsabilità da parte di chi non ha fatto nulla per dare il via a quella operazione. Sì, condivido la preoccupazione di un sistema di partecipazione che è stato assunto in un momento storico, erano l'inizio degli anni 70 dopo il 68 e quindi si aveva la necessità di aprire le porte delle istituzioni scolastiche alla società civile cominciando dalle famiglie facendole diventare parte integrante di un progetto. Poi tutto questo è evidente che ha avuto e ha la necessità di essere attualizzato. Oggi siamo di fronte ad organi collegiali svuotati in termini di operatività, quindi noi continuiamo ad avere questi contenitori che non vengono praticati, noi quindi i consigli di istituto, i consigli di classe con la presenza dei genitori e anche degli stessi studenti oggi sono più una prassi consolidata che non una opportunità. Ecco perché nelle varie, diciamo, performance dei ministri che noi abbiamo vissuto dall'autonomia scolastica in avanti, forse quello che è mancato è stato esattamente un dibattito serio cominciando dalle esperienze che hanno funzionato, che non hanno funzionato all'interno delle autonomie scolastiche, di come attualizzare gli organi collegiali e quindi un'evoluzione dei decreti delegati. Questo è mancato e oggi, di oggi se ne sente la necessità. Io ricordo che noi nel precedente contratto 2016-2018 introducemmo un articolo, l'articolo 24, che parlava proprio di comunità educativa, che era un primo passaggio concettuale per poter dare in qualche modo l'assist al legislatore per poter immaginare una sorta di rivisitazione di come si può essere protagonisti e questo avrebbe, se si fosse colta questa occasione, avrebbe rinsaldato un'alleanza tra scuola, famiglia e territorio che oggi manca. Venendo al problema, al tema dell'autonomia scolastica, tu sai meglio di me che insomma ogni tanto c'è chi dice no, l'autonomia è stato un errore gravissimo, non bisognava procedere in quella direzione, tu cosa è il vostro sindacato, su che posizione è in merito? Allora io non ero ancora segretaria nazionale e già allora però ricordo benissimo quale fu la nostra posizione, noi sostenemmo fortemente l'introduzione dell'autonomia scolastica e mi sento di dire che quella fu una scommessa che il paese doveva affrontare e che la scuola ha fatto bene a cogliere. Poi tra le intenzioni anche del legislatore e la realtà in mezzo è successo di tutto. Mi sento di dire che oggi possiamo analizzando il passato, diciamo scattare una fotografia di un'autonomia dichiarata piuttosto che esercitata, un'autonomia scolastica dichiarata con la mancanza invece di tutta una serie di interventi che avrebbero dovuto invece rendere protagonista davvero in termini operativi e anche di mission, gli organi collegiali e i docenti e il dirigente scolastico. Ecco ma allora secondo te appunto che cosa è mancato? Cioè perché l'autonomia scolastica oggi la si vede un po' come un mezzo fallimento? Cosa si doveva fare a tuo parere? Allora l'autonomia scolastica allora si doveva essere molto più chiari sulla distribuzione dei poteri e delle responsabilità. Con l'introduzione dell'autonomia scolastica c'è stata una disarticolazione tra quello che doveva fare il ministero dell'istruzione e quello che avrebbe dovuto prendere in consegna la scuola perché c'è stato un effetto delega e quindi tutto si è scaricato in termini di responsabilità sulle istituzioni scolastiche non ci sono stati diciamo gli spazi intermedi a cominciare dagli ex provveditori provveditorati eh gli ex uffici scolastici eh c'erano i centri provinciali che aggregavano anche organi collegiali provinciali c'erano uffici scolastici e provveditorati c'erano i vecchi erzae che in qualche modo creavano una condizione di diciamo reticolo di rete sul territorio che spartivano le responsabilità e in qualche modo facevano della condivisione dei processi educativi in termini organizzativi un metodo con l'autonomia scolastica c'è stato un effetto scarica barile il ministero si è sentito di voler alleggerire le proprie eh le proprie responsabilità ma questo alleggerimento ha ha costituito in realtà un appesantimento dei processi a carico delle scuole senza che le scuole ne avessero tutti gli strumenti a disposizione. Torniamo alla questione dell'autonomia differenziata c'è chi sostiene che eh il tema centrale è quello della definizione dei LEP cioè i livelli essenziali delle prestazioni. Tu ritieni che davvero una volta definiti i LEP si possa tranquillamente procedere sulla strada della autonomia differenziata oppure non è detto che la questione sia così semplice. Io ritengo che sia molto complesso anche intanto individuare nel sistema di istruzione dove si ha a che fare con dei processi i cui effetti si colgono non nel mentre che agisci ma eh successivamente. È molto difficile individuare nel sistema di istruzione il livello essenziale delle prestazioni perché tutto o gran parte è legato e collegato al contesto. Quindi se parliamo di livelli di carattere quantitativo e quindi quanti asili nido quanti quanto tempo scuola quanti tempi pieni devo poter garantire in ogni istituto scolastico allora può essere anche semplice. È vero che questo si può ottenere senza l'autonomia differenziata. Basterebbe fornire un organico adeguato, creare le condizioni perché gli enti locali abbiano gli spazi, i trasporti e le menze. Quindi è tutto davvero molto concatenato. Poi quando entriamo invece nella pratica operativa dei processi di insegnamento apprendimento stabilire che i livelli di apprendimento in Calabria debbano prevedere un livello essenziale alla stessa maniera di quanto non possa essere in Lombardia è pressoché impossibile perché addirittura ci sono le differenze dentro la stessa città. Cioè un conto è imparare e quindi insegnare e imparare in una periferia di Milano, un conto è imparare ed insegnare a diciamo il centro storico di Milano dove c'è via Monte Napoleone. Senti non dimentichiamo che il tema dell'autonomia differenziata era uno dei punti fermi del programma della coalizione che poi ha vinto le elezioni. Quindi alla fin fine diciamo che questa maggioranza che sta governando è pienamente legittimata ad operare in questa direzione. È giusto quello che dico? Sì è giusto. Andando a rileggere il programma di governo del centro-destra noi troviamo l'autonomia differenziata. Io dal mio punto di vista mi sento di dire che ehm trattandosi di un accordo tra Parlamento, Governo e Regioni dobbiamo stare molto attenti sulle materie che possono e devono essere oggetto di autonomia differenziata. E quindi in questo dibattito che è un dibattito aperto nel quale la CISL è molto attenta anche a cogliere occasioni e opportunità di crescita anche andando a eh diciamo rendere più prossimo eh l'attore e il regista delle azioni in questo dibattito però noi dobbiamo fare molta attenzione nel salvaguardare alcune cose. Una su tutte è l'integrità del sistema nazionale, sistema scolastico nazionale. Quindi ben venga il dibattito sull'autonomia differenziata ma la scuola deve essere salvaguardata nella sua complessità nazionale. Senti concludiamo con l'ultima domanda che ehm ti faccio proprio in relazione ad una frase che tu hai detto Orora quando hai detto la CISL è molto attenta. Eh tu hai detto CISL e non CISL scuola credo di proposito perché già in altre circostanze tu hai fatto osservare che eh il tema dell'autonomia differenziata non può essere un tema del del sindacato di comparto che è peraltro uno dei motivi per cui voi non avete aderito alla raccolta delle firme promossa da altri eh sindacati pur confederali. È così cioè quindi voi ritenete che questo tema debba essere un tema fatto proprio dalle confederazioni e non soltanto dal comparto scuola? È esattamente corretto quello che tu dici perché l'autonomia differenziata abbraccia una serie di aree e di materie dalle infrastrutture alla mobilità all'ambiente al sistema sanitario al sistema di istruzione. Quindi ha una complessità in termini di vita eh diciamo di qualità della vita delle persone che è un tema del tutto confederale. Il motivo per cui non abbiamo aderito alla raccolta delle firme per diciamo ehm contrastare eh l'autonomia differenziata è stata esattamente quello che eh la determinazione del fatto che CISL scuola e quindi la categoria, la federazione che io rappresento si occupa della parte specifica del sistema scolastico. Mentre invece sugli altri temi la CISL è particolarmente attenta e anche diciamo propositiva rispetto ad alcuni elementi che possono eh responsabilizzare i territori ma è molto attenta a salvaguardare invece il sistema unitario di istruzione. Quindi dobbiamo distinguere se l'azione riguarda l'autonomia differenziata nella sua ampiezza non c'è solo dentro la scuola c'è tanto altro. Materia confederale. Se stringiamo il campo e ci occupiamo di scuola riguarda la federazione riguarda la CISL scuola che ha una posizione chiara e cristallina non da adesso ma già dalle prime avvisaglie di regionalizzazione del sistema scolastico. Bene grazie a Ivana Barbaci segretaria generale di CISL scuola eh ci ha parlato del loro della loro iniziativa che si svolgerà il 20 di giugno. Si parlerà appunto di autonomia scolastica e autonomia differenziata eh auguri di buon lavoro e ovviamente eh aspettiamo di leggere i documenti che usciranno da questa giornata di lavoro. Grazie ancora. Grazie. 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 Grazie.